Buongiorno, ci sono la Provence, tutti i prodotti a base di lavanda sono francesi della Provence e abbiamo tutti prodotti alla lavanda, come il patto alla lavanda, il sapone di massiglia alla lavanda, il ciropo alla lavanda, la lavanda che si lascia aperta a casa con le grani di lavanda e tutti la cucinare, la mostarda, le herbe di Provence e la friori di sale e le marmolade di picchi della Provence